Buongiorno, buongiorno da QCodeMag che partecipa a queste serie di interviste e incontri per il Festival dei Diritti Umani. Sono Angelo Miotto, il direttore, e con noi c'è Filippo Di Salvo che io saluto. Buongiorno Filippo. Buongiorno a tutti e tutte. Con lui parleremo di algoritmi, parleremo di intelligenza artificiale, parleremo soprattutto di controllo e della politica. Questo è il tema che ci appassiona, sono molti discritti i libri e gli interessi che contraddistinguono Filippo nella sua azione di ricercatore oltre che di giornalista. Ma è la prima cosa che ti chiederei Filippo è di presentarti tu a nostro pubblico che ci sta guardando. Grazie, io sono principalmente un accademico, un ricercatore, svolgo attività di ricerca e di insegnamento presso l'Istituto di Milie e Giornalismo dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano. Insegno anche alla nuova Accademia di Belle Arti a Milano e come giornalista freelance invece collaboro con alcune testate, in particolare con Wired qui in Italia. I miei interessi sono, sia nell'Accademia che nel giornalismo, vertono nei rapporti tra informazione e hacking, quindi tutto ciò che fa capo al mondo della sicurezza informatica. E nel complesso, questo forse più sui giornali che in Accademia, all'impatto sociale delle tecnologie. Quindi sicuramente temi che hanno a che vedere con la nostra chiacchierata. Capitalismo di sorveglianza e algoritmi. Detto così è un tema enorme, però cerchiamo di affrontarlo semplicemente per dare un contesto al nostro pubblico. Allora, cosa intendiamo quando parliamo di capitalismo di sorveglianza? Capitalismo della sorveglianza è una definizione molto ficcante, molto puntuale, che Shoshana Zuboff, una economista americana, ha coniato nel libro eponimo. Quindi è una sua concettualizzazione che, dal mio punto di vista, scatta una fotografia molto precisa di quello che sta avvenendo oggi sul web, quantomeno nella parte abitata del web, quindi in tutti i servizi di piattaforma dentro il quale le persone si ritrovano, comunicano e hanno momenti di socialità online. Il capitalismo della sorveglianza è un sistema economico di base, è un modello di business che mischia la possibilità di raccogliere e analizzare i dati personali degli utenti dei servizi di piattaforma al fine di fornire servizi personalizzati, targetizzati o addirittura di prevedere quello che gli utenti vorranno ottenere da questi servizi. È chiaro che siamo nel territorio delle grandi big tech, Google in particolare, che è al centro del libro di Zuboff, ma il medesimo modello si può applicare anche alle dinamiche di Facebook e in generale a tutti i grandi servizi del web. Di fatto è una definizione che spiega il modello di business diventato sostanzialmente egemonico sul web, che si basa appunto anche sull'utilizzo degli algoritmi. Gli algoritmi sono, è una cosa che è difficile, devo dire, da definire, ma sono un mix di matematica, tecnologia e segreto, direi, e che consentono alle piattaforme di attuare i servizi che offrono. Un esempio che forse è più chiaro anche per chi ci ascolta è come Facebook smista le informazioni che diversi utenti vedono nel proprio feed quando accedono alla piattaforma. Tutti gli utenti vedono cose diverse e quello che vedono in larga parte è dovuto all'azione di un algoritmo che seleziona, filtra e offre loro sulla base di alcuni input dei contenuti che ci si aspetta possono essere di loro interesse. Il capitalismo della sorveglianza ha sicuramente portato al perfezionamento l'utilizzo degli algoritmi in questo senso e sta in un certo senso anche espandendosi al di fuori del web. Sono sempre più i servizi offerti da piattaforme tecnologiche che non hanno più molto a che vedere con il web stesso, ma guardano anche alla realtà fisica, materiale della nostra vita. Giusto un commento forse un po' accademico e pedante, il libro di Shoshana Zuboff è stato anche giustamente criticato per alcuni suoi presupposti, per alcuni suoi aspetti teorici. Morozov va ad esempio molto attaccato per l'idea che Zuboff fa di capitalismo in principio. Io credo che queste critiche siano corrette, ma non vanno di fatto a toccare la parte più descrittiva e analitica del libro che secondo me invece è molto puntuale e spiega molto di quello che sta avvenendo oggi. Ecco Filippo, in realtà se noi pensiamo a come utilizziamo lo smartphone, noi ma soprattutto anche i ragazzi più giovani e sentiamo queste tue parole, ci viene quasi un po' da pensare che siamo dentro una sorta di gabbia e quindi che da lì facciamo fatica un po' ad uscire. Quindi ti vorrei chiedere su questo se siamo prigionieri in qualche maniera di questo capitalismo della sorveglianza, poi vedremo come se ne può uscire e poi dopo parleremo di politica. Ma non credo che siamo prigionieri, nel senso che non vedo qui, contrariamente a Zuboff, un disegno autoritario, comunque una deriva democratica grave nei confronti della cittadinanza e della stessa idea di democrazia. Siamo sicuramente dentro un sistema da cui è difficile uscire, scusami. E questo non è dovuto tanto al fatto che siamo prigionieri, ma al fatto che questo sistema è stato progettato e realizzato per non farci mai uscire. Nel senso che parte del successo delle grandi piattaforme deriva proprio dalla volontà di trattenere gli utenti quanto più a lungo dentro i propri servizi. Se si guarda ad esempio alle scelte che ha fatto Facebook negli ultimi anni, andando ad acquisire potenziali concorrenti, Instagram e WhatsApp in particolare, sono tutte scelte strategiche che hanno come obiettivo il fatto che le persone non escono mai da spazi che fanno capo a Facebook e che fanno capo alle sue dinamiche e ai suoi modi di raccolta dati. Quindi in un certo senso siamo, sì, inclusi in un sistema che sembra volerci trattenere più del necessario. Però non credo, e su questo spesso sono in disaccordo anche con altri che come me criticano questo sistema che siamo di fronte a un'emergenza democratica. Troppo spesso abbiamo letto titoli o comunque argomentazioni che dicevano a Trump, per esempio, ha vinto le elezioni perché Facebook è responsabile di questo e quello, oppure la Brexit allo stesso modo, internet sta distruggendo la democrazia e via dicendo. Quelli secondo me sono argomentazioni che partono da un presupposto di panico morale nei confronti di quello che succede nella realtà e si va a cercare una risposta spesso unidirezionale e spesso nella tecnologia. Ecco, su quegli punti di vista sono un po' in disaccordo. Di sicuro però tutto ciò che fa capo a quello che prima avevamo definito come il capitalismo della storia, è estremamente problematico ed è estremamente controverso da un punto di vista di diritti umani e di diritti digitali. Siamo di fatto di fronte a un sistema che ha fatto dell'erosione della privacy e della mercificazione dei desideri e delle paure degli utenti il proprio marchio di fabbrica. E questo è sicuramente estremamente problematico da un punto di vista prettamente di privacy, ma anche da un punto di vista di quello che vogliamo diventi in un certo senso la società digitalizzata. Però ecco, stendo sempre un po' a gettare acqua sul fuoco quando si va nella direzione di questo sistema sta avendo un effetto diretto e palpabile ed evidente sullo stato di salute delle democrazie. Di sicuro quello in cui ci troviamo oggi non è il web che speravamo di abitare. se guardiamo i presupposti su cui era stato inventato. Siamo dentro un sistema che vede il web come una sorta di gigantesca serra in cui coltivare giacimenti di dati da sfruttare commercialmente. E chiaramente è distopia, però tenderei sempre a tenere separati questo problema da quello che succede poi nella politica. Perché spesso quando si accusa la tecnologia in quel modo di essere direttamente responsabile di qualcosa nella realtà, lo si fa perché si cercano risposte facili a problemi molto più complessi di così. Filippo Di Salvo con noi per questa chiacchierata qui al Festival dei diritti umani, di sesta edizione dedicata all'algoritmocrazia in questo spazio dedicato e gestito da QCode Meg. Allora Filippo, dicevi un oro nero praticamente, quello della rete sono questi dati e ci hai detto appunto di non temere e di non essere d'accordo con chi pensa che ci possa essere una deriva democratica. La domanda è sulla politica allora. Abbiamo visto come il mercato dal punto di vista dei consumi riesce in qualche maniera a farci rimanere un po' come dei criceti sulla ruota, tendiamo avanti a correre. La politica ha imparato a usare questi dati e se sì, ovviamente abbiamo degli esempi da citare, ma se sì come lo ha fatto? Da questo punto di vista invece dove sta il pericolo? Ma questo l'abbiamo scoperto in modo palese e chiarissimo con il caso Cambridge Analytica. Cambridge Analytica è stato un evento molto importante dal mio punto di vista nel fornire elementi che descrivessero il modo in cui il rapporto tra social media e politica fosse diventato problematico, ma è anche un caso che è stato forse raccontato in modo eccessivamente enfatico ed è stato forse anche un po' gonfiato eccessivamente. Dopo magari ci vediamo. Però Cambridge Analytica ci ha mostrato come le stesse dinamiche commerciali del marketing che vediamo online e la targhettizzazione a scopi pubblicitari potessero essere applicate impunemente e sostanzialmente allo stesso modo anche in ambito politico. Quindi per veicolare messaggi di propaganda sui social media e per veicolare anche tentativi di influenza a scopi elettorali. Niente di nuovo in principio. La propaganda politica esiste da che esiste la politica, i mezzi di comunicazione l'hanno servita, anche essi da che esistono e questo ora viene applicato dentro un sistema mediatico e dentro strumenti digitali contemporanei. Di sicuro però alla base di questo c'è qualcosa di diverso che è l'accesso a questi dati. Cambridge Analytica ci ha fatto capire come in un determinato momento storico Facebook che poi era al centro dello scandalo non avesse effettivo controllo su chi potesse accedere ai dati a sua disposizione. Cambridge Analytica nasce di fatto da un grosso database raccolto con il beneplacito di Facebook da un accademico sedicente tale che voleva quei dati per uno scopo di ricerca è riuscito tramite un giochino online piuttosto scemo ad accedere a informazioni su quasi 90 milioni di persone ma quei dati non sono rimasti a suo servizio per i suoi scopi accademici legittimi o meno ma sono finiti in qualche modo nelle mani di questa Cambridge Analytica questa azienda un po' oscura che si vantava dei veri agganci accademici che forse non aveva fondata da Steve Bannon con connessioni strane e quant'altro. Però il succo della questione è che Cambridge Analytica non ha inventato nulla. È riuscita sicuramente a offrire ai suoi clienti Trump e la campagna Leave per la Brexit uno strumento che suonava molto efficace, suonava molto magico in un certo senso e sicuramente questo è problematico. Cambridge Analytica è una storia divisa tra un aspetto tecnologico e un aspetto più politico. Io credo che l'aspetto tecnologico fosse molto più interessante dell'aspetto politico di quella vicenda perché appunto ci mostrava come di fatto l'economia dei dati fosse un colabrodo e come anche gli attori più importanti avessero ben poca responsabilità nella gestione del proprio diciamo così giacimento di informazioni. L'aspetto politico ovvero quello invece nasceva dal fatto che essere coinvolti con Cambridge Analytica fossero appunto Trump, la campagna Leave e quant'altro. Quindi in un certo momento nella narrazione di Cambridge Analytica si è perso di vista il lato tech e si è insistito molto di più sul lato politico, anche qui agganciandosi a quelle narrative un po' semplici dove Trump ha vinto per via dei poteri magici di Cambridge Analytica e via discorrendo. Non credo sia così. Di sicuro è totalmente plausibile che Cambridge Analytica abbia influito e contribuito alla crescita di consenso dei suoi clienti però da qui a stabilire che abbiamo avuto Trump alla Casa Bianca per via delle azioni di questa azienda mi sembra un po' semplicistico. Comunque da Cambridge Analytica abbiamo imparato tanto e anche qui prendendo le giuste misure su gli aspetti davvero innovativi di Cambridge Analytica si può comunque dire che esiste un problema nel modo in cui anche la propaganda politica viaggia sui social perché ci viaggia con esattamente le stesse dinamiche che ci fa viaggiare il marketing o la pubblicità meno controversa e questo secondo me è molto problematico perché sostanzialmente abbiamo relegato la comunicazione politica, l'influenza politica online a delle dinamiche commerciali e quindi allo stesso modo in cui si possono investire soldi in promozione per prodotti commerciali lo si può fare per messaggi politici che poi spesso possono anche essere razzisti o comunque sessisti o violenti e questo secondo me è un controsenso in un certo senso è il punto più controverso di tutto questo discorso. Anche qui ho letto spesso proposte di risoluzione del problema che vedevano sempre il succo della questione dentro la tecnologia. Non credo che la risposta vada cercata lì, io credo si debba regolamentare cosa la politica può fare con la tecnologia e con i social media perché spesso gli interventi di legge, gli interventi normativi nei confronti dei social o comunque del web e via discorrendo rischiano di proporre soluzioni peggiori dei problemi che vorrebbero risolvere. Quindi secondo me sarebbe molto più facile sciogliere questa questione, sciogliere questo problema intervenendo direttamente sulla politica dicendo ok non potete fare troppi magheggi con gli algoritmi, non potete cercare di nascondere il fatto che state promuovendovi in modi abbastanza controversi piuttosto che intervenire sulle piattaforme o altro perché lì di solito si rischia appunto di fare più danni che altro. Ecco proprio a questo proposito Filippo di Salvo volevo chiederti c'è forse anche una certa mitologia ogni tanto che accompagna determinate questioni che riguardano la tecnologia, la politica, separato spesso dalla bestia salviniana, non so cosa ne pensi, se la vogliamo classificare solo come un listening tool, qualche cosa che appunto sta all'ascolto e poi utilizza o che ha altre tecniche, però ecco poi la stampa mainstream poi crea un personaggio a sua volta di questa bestia salviniana che appunto appare mitologico, quasi imbattibile, quasi invincibile quindi c'è anche un problema forse di racconto, tu che studi nel profondo queste dinamiche dell'informazione anche di questi meccanismi poi alle persone che crea poi una sorta di mito insomma, no? Di stupore. Sì, sono totalmente d'accordo con te. Esiste una narrativa che vede la tecnologia come se vivesse al di fuori del mondo sociale, del mondo politico, del mondo economico in cui viene applicata. Quindi come qualcosa di magico che partendo da presupposti completamente diversi e agendo in modi totalmente suoi e distaccati dalla realtà è in grado con uno scocchio di dita di causare effetti diretti nella società e queste sono delle visioni che si possono far coincidere con le definizioni di sublime digitale o di determinismo tecnologico che vedono appunto la tecnologia come quasi una forza divina in grado di intervenire in virtù di una presunta neutralità e causare qualcosa. Beh, non è mai così. Tutti questi punti di vista sulla tecnologia appunto sono spesso, spesso si esprimono in modi eccessivamente deterministi, quindi appunto vanno a trovare rapporti di causa-effetto dove questi non ci sono e tendono sempre ad attribuire alla tecnologia dei poteri sublimi appunto che in realtà non hanno. Nel concreto della bestia salviniana, beh sicuramente Salvini è stato forse il politico italiano che meglio ha saputo utilizzare i social media per promuoversi, per essere soprattutto costantemente visibile. perché credo che, ora non so, onestamente non sono neanche un esperto di tecniche di comunicazione social o quant'altro, non so quanto raffinato sia questo sistema, di sicuro però è diventato estremamente efficace e un motivo per il quale è diventato tanto efficace è che qualsiasi cosa, specialmente quando era al governo Salvini facesse sui social media diventava una notizia sui media diciamo così mainstream o comunque sui media più tradizionali e credo che questo fosse esattamente quello che Salvini si aspettava. Quindi anche lì prima di andare a cercare chissà quale capacità innata o chissà quale formula magica dentro la bestia salviniana forse bisognerebbe andare a capire quali sono le dinamiche che volevano toccare e capire che forse sono riusciti a toccarle completamente. Ecco, dati che ci vengono sottratti in qualche maniera o che ci facciamo sottrarre meglio ancora e dati che quando vengono sottratti molti, soprattutto parliamo di attività di intelligence militari vogliono che rimangano ovviamente segreti. Eppure qualche cosa si è mostro, lo sappiamo, si è mostro tante cose in questi anni e quindi ti vorrei chiedere quasi di tracciarci un viaggio da Wikileaks a oggi perché abbiamo avuto ovviamente che questa sarebbe un'operazione di diverse ore però ti chiedo uno sforzo di sintesi per farci capire come il fatto dei leaks e il fatto poi del whistleblowing abbia dato una robusta mano ovviamente a svelare questi meccanismi. Sì, una cosa che dico spesso e che mi torna spesso in mente è come buona parte di quello che abbiamo imparato su come funziona nel concreto la società dei dati o il nostro rapporto con la rete oggi è stato svelato grazie all'intervento dei whistleblower. Qui è chiaro che Snowden sia stato quello più efficace perché dobbiamo a lui le rivelazioni del 2013 sulla sorveglianza di massa quindi come effettivamente esistessero da parte di stati democratici un'attenzione molto profonda nei confronti della comunicazione digitale a scopi di controllo e di intelligenza e di sorveglianza. Però anche Cambridge Analytica di cui parlavamo prima nasce di fatto da un caso di whistleblowing. Christopher Wiley decise di svelare il funzionamento dell'azienda che lui stesso aveva contribuito a fondare aprendo poi tutto quel discorso che abbiamo fatto prima. E all'origine c'è sicuramente Wikileaks che ha aperto la stagione o quanto meno il decennio dei grandi leak con le, diciamo così, le rivelazioni di Chelsea Manning su la guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq e la diplomazia degli Stati Uniti. Ecco, forse Wikileaks ha aperto questa fase attribuendo, dando visibilità a un metodo che poi è stato portato avanti in altro modo. Beh, il whistleblowing è sempre il sintomo di un sistema che non funziona cioè se un sistema funziona in modo segreto ed è in grado di occultare molto del suo funzionamento spesso l'unica cosa che rimane alla cittadinanza per essere informata o resa partecipi di quello che sta avvenendo è l'azione di un whistleblower o di una whistleblower. Quindi quando succede un atto di whistleblowing è sempre o quantomeno è spesso dovuto al fatto che altri sistemi di trasparenza abbiano fallito. Quindi non c'è modo di accedere a informazioni vitali per il dibattito pubblico fino a che qualcuno non decide di rivelarle in modi brutali spesso per chi chiaramente subisce il leak o comunque modo dirompente che porta poi a un fenomeno di scandalizzazione. C'è una metafora che secondo me spiega molto bene quello che sta succedendo che è quello della scatola nera, la black box. Un termine che in particolare è stato coniato da Frank Pasquale un sociologo americano che definisce molte cose della società contemporanea come una scatola nera ovvero qualcosa che è in grado di registrare tutto quello che avviene ma del cui funzionamento noi sappiamo molto poco. E questo lo si può applicare sicuramente al sistema degli algoritmi di cui parlavamo prima che sono di fatto segreti industriali ma lo si può anche applicare a scatole nere più giuridiche gli accordi di sorveglianza tra stati sono chiaramente segreti e via discorrendo. Ecco io credo che quando si manifesti in modo così palese una scatola nera con un'influenza così importante su determinate dinamiche sociali fondamentali il contributo dei whistleblower possa essere davvero fondamentale nel capire cosa sta succedendo e nel favorire un dibattito fondamentale. Se posso fare una previsione io credo che aumenteranno ad esempio i casi di leak dalle aziende della Silicon Valley. È già successo, molti insider hanno rivelato alla stampa dettagli su come funziona la content moderation la gestione dei contenuti, la rimozione dei contenuti. È diciamo così del tutto probabile e credo lo vedremo sempre più di frequente che casi simili possano avvenire anche più di frequente e più direttamente. Ultime due domande, Filippo Di Salvo per chiudere questa intervista ed è una proprio riguardo a noi, riguardo ai cittadini i cittadini digitali ormai anche molto e quindi da una parte vorrei chiederti come ci difendiamo da questi meccanismi e dall'altra però vorrei anche chiedere anche come contrattacchiamo. Ma vedi, io vorrei che non dovessimo difenderci in un certo senso ed è sempre curioso vedere come mi sembra al contrario che la società dei dati funzioni sempre più contro i suoi stessi cittadini nel senso che non voglio passare per il facile distoppico e sono fermamente convinto che anche Google e Facebook abbiano portato ovviamente dei miglioramenti palesi nelle nostre vite ma che ci siano sicuramente seri problemi su come funzionano questi servizi e sulla loro politica e sulle loro dinamiche economiche. Ciò detto però è un sistema da cui spesso dobbiamo difenderci. Lo vediamo perché scarichiamo gli adblocker per non essere costantemente bersagliati di pubblicità targettizzata spesso inutile e fastidiosa e dobbiamo ricorrere a stratagemi tecnologici di questo tipo. Io credo che l'unica cosa che si possa fare a livello individuale per partire è cercare di mitigare la presenza di questi attori nelle nostre vite. Quindi esistono delle alternative che si possono utilizzare. Ad esempio Signal che è un'app di chat in tutto e per tutto simile a WhatsApp quindi la user experience è la medesima le funzionalità somigliano moltissimo ma i presupposti su cui funziona Signal sono molto diversi da quelli di WhatsApp che essendo un prodotto di Facebook è chiaramente figlia ed è soggetta alle stesse dinamiche di Facebook stessa. Signal no, Signal è gestita da una fondazione no profit che nasce attorno all'idea di difesa della privacy e di conseguenza ha tutta un'attitudine diversa nei confronti ai dati che non raccoglie tra l'altro e a come si pone nei confronti degli utenti. Quindi sì, bisogna in un certo senso iniziare a uscire da questo mindset per il quale le alternative non esistono perché in alcuni casi per quanto minoritari e per quanto chiaramente non risolvono il problema nella sua totalità sono già disponibili e le si potrebbero attuare. Questo dicevo a livello individuale però se si crea una sorta di massa critica chiamiamola così di utenti che sviluppano le alternative a quel punto c'è una risposta c'è una risposta a livello di comunità c'è una risposta a livello collettivo perché spesso quando si parla di privacy si tende sempre a intenderla come non voglio che nessuno entri nel mio privato come se al singolo cittadino venisse attribuita una peculiarità di qualche tipo. In realtà il problema della privacy è sempre collettivo e quindi è quello che succede a livello sistemico quando si può correlare la violazione della privacy di tanti individui è lì che bisogna cercare il problema e quindi una risposta collettiva è l'inizio quantomeno di questo processo. Grazie Filippo grazie del tuo tempo e soprattutto di tutte queste nozioni che ci hai travasato e quindi chiudiamo qui questa intervista per il Festival dei diritti umani a cura di Q-Code il tema, non ricordo se non l'avete ancora capito era l'algoritmocrazia siamo andati anche un po' in giro insomma dal capitalismo di soviglianza siamo partiti e siamo finiti appunto a capire anche come possiamo fare massa noi a nostra volta per cercare di difenderci. Grazie. Grazie a voi buon festival. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti